Ciao Fede, come stai oggi? Bene? Un po' infreddolita, Steph Io sono un po' felice, perché devi sapere Come un po' felice? O felice o non felice? No, 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 la sono soltanto un po' perché so già come reagirai Che è successo? Devi sapere che ho preso l'iniziativa di arredarti la casa, Fede No Sì No, Steph Vuoi venire a vedere? Allora, ignora il pacchetto regalo che ci ha lasciato qualcuno Ti ho mandato Big Night Per spaccarti la faccia, Steph, cosa hai fatto in casa mia? Vieni, vieni, vieni Ma il pacchetto regalo l'hai messo tu? No, 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 è un regalo di qualcuno, non so di chi Ok, lo apro dopo, va bene Allora, sei pronta? No Vai, Fede Fede Cosa mi dici? No, si crede simpatico, non c'è altra soluzione Si crede simpatico, ma in realtà non lo è Perché chi è che può essere simpatico a fare una cosa del genere? Nessuno, Steph Cioè, ti credi pure burlone qua E guarda, dico burlone per non insultarti Nota bene, Steph Ti ho messo pure un letto lì in fondo No, lo vedo, lo vedo Per riposarti se riesci ad arrivare fino a lì E ragazzi, come va? Io sono Fede, Niki E sono Steph, che si giochiamo a Minecraft E torniamo con la nostra Pixel Mono Steph Come prima cosa di oggi, voglio aprire il regalo Perché sai che con i regali ho un debole particolare Quindi non resisto Vai, Fede, apri Fammi sapere cosa c'è Si può aprire? Oppure è solo un pacchetto estetico? È solo un pacchetto estetico, Fede Mi dispiace Io volevo aprire Ma come? Il tuo episodio parte male oggi Sì, io pensavo si aprisse Invece no Mi dispiace Vieni a vedere che bella è la mia casetta che è diventata Allora, ti voglio far notare Spiegami Spiegami Guarda la cesta Fede Ma l'ho son rubata Dai È Billy Non puoi prenderla tu Non hai il possesso di Billy Non sai neanche come si rimette Ok, sì Certo che lo so, Steph Allora, ho messo una barchettina Perché lo sai, sono un pirata E quindi devo sempre avere una barca per ricordarmelo Poi le freccette per giocare Mentre apro la cesta Così non mi annoio Qui c'è il tavolo per appunto Creare tutte le cose della DecoCraft Che sono tantissime E quindi ci devo lavorare un sacco E poi sopra c'è la cosa più bella, Fede Ok Perché guarda Aspetta, è un po' difficile salire Ma sei serio? Cioè, mi sono appena sdraiata Sì Aspetta, così Perfetto Mi prendo un po' di sole Ho pensato Ho un bellissimo terrazzo In qualche modo lo dovrò sfruttare O no È così, è perfetto Sì, è abbastanza ridicolo, Steph È bellissimo Non iniziano le cose serie Allora, prendo il sole Però devo fare qualcos'altro Quando sto di sopra Quindi ho pensato Potrei dipingere E quindi Bello, bello Hai fatto tu questo, Steph Sì, 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 ci ho messo un sacco di tempo Sono stato bravo Molto bravo, sì Ok Sembra artista Poi ho pensato Cos'altro posso fare Mentre prendo il sole E dipingo E quindi ho trovato la cosa perfetta Però ho notato che non ci sta molto Ho già capito cosa vuoi mettere Perché si vede Si vede No, Fede Non ci sta fuori No, perché Ho una casa troppo piccola Sì Devo Dovevi fare come me Guarda quanto spacca c'è Sai che farò uno brobrio Cercando di ingrandirla Nel prossimo video, vero? Sì Dico, mi viene lasciarla così, Steph No, no, no Andiamo a andare a vivere sotto terra Così nessuno ti vede più Sai che lo farò Quando le ciance comunque Io ho anche livellato tantissime miei Pokémon Pure io, pure io Ma io me li sono allenati tantissimo Eh, anch'io Ho portato Crocanova al 25 Staravia al 21 E Ponita al 31 Quindi sono andato 31? Eh sì, era al 30 Wow No, Ponita Ah, poco Sì, non mi ricordavo Mi ricordavo tipo il 25 Eh, perché non mi frega nulla, lo sai Non mi è buggata da cavalcare Quindi avevo poco interesse Però gli altri due li ho portati davvero in alto Quindi diciamo che iniziamo ad essere forti Però secondo me, Ferre, non possiamo più stare con solo tre Pokémon nella squadra Esatto, quello che ti volevo dire anche io, Steph E quindi Gli ho livellati perché oggi ho necessità di catturare qualche Pokémon Sì, ma Ferre, ho preparato un bel po' di Ultrabole, eh Davvero? Ho preparato un bel po' di True Ho preparato un bel po' di True Ne abbiamo 14 Eh, vabbè, ci bastano Sì, sì, sì Che a me ancora ne sono avanzate Quindi Quindi avviamo la caccia Però la voglio rendere interessante Perché secondo me Ci dobbiamo mettere un po' di Pepe al tutto Quindi facciamo così, Ferre Abbiamo 10 minuti cronometrati Per andare in giro e catturarci due nuovi Pokémon Se in 10 minuti non ne catturiamo Semplicemente abbiamo perso l'occasione Ma no, Steph Quindi dovremmo essere veloci a trovare qualcosa che ci piace e catturarlo Allora, io ti dico già che oggi voglio puntare a catturare un Pokémon d'erba E un Pokémon d'acqua D'erba e d'acqua Sì, perché mi mancano Non è semplice, però ti dico che io in giro ho visto anche un Bulbasaur da poco E l'avrei voluto prendere tantissimo Però non stavamo registrando Ho fatto no, non posso prenderlo senza farlo vedere Quindi l'ho lasciato lì Ma aspetta Mi state dicendo che c'è un Pinsir Ma Pinsir è scarso, secondo me, di abilità Non mi sembra troppo forte È bello, eh Guardalo No, bello è bello, ma non lo so C'è nella mia squadra dei cattivi Sì Che è successo alla casa di Lars? Allora, se io ho fatto uno scherzetto a te Loro hanno fatto proprio una roba Non può esagerare Io non tornavo più a letto a dormire Vabbè, sì, è un po' esagerato Però è bellissima È fantastica No, dai, sì, mi è convinto Pinsir non lo prendo Mi ha fatto sentire in colpa Quindi andiamo a cercare l'altro E vabbè, grazie, è molto orbo che mi attacchi E quindi metto il timer e partiamo, Fere? Sì Che dici? Sì No, 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 non te lo posso dire, Fere Devo rivederlo Dai Ti prego Dimmelo, lasciarmi così ranzia Torna da me Era un Pokémon bianco Eh, bianchi sono tanti Sì, ma non doveva essere bianco, Fere Capisci? Quindi era shiny? Sì Oh mio Dio A parte che c'è una foca e voglio quella foca Bellissima Fere No, no, se l'ho perso Niente, no, io non vedo niente di bianco Se l'ho perso un pazzisco Uh, che bella, ciao Fere Eh, la foca La foca è l'ultimo dei nostri desideri Mi sta un attimino No, dai, vi prego Non lo so, Stef Vi prego, fatemelo ricomparire Vi scongiuro Anche perché poi si mimetizzava Eccolo Guarda, guarda Ulpix bianco No Sì No, assolutamente che mi sta attaccando un Pokémon Lasciatemi in pazz... No, Stef, lo voglio È mio, Fere No, Stef Non è giusto Fere, l'ho trovato io Non è giusto questo Lo voglio io L'ho trovato io No, vabbè, che bello Lo so Ma sei pazzo Allora, vediamo se lo prendo Ti prego Spero di no Spero di no Ma dai, non puoi avere tutta questa fortuna Cioè, tu fai davvero schifo, Stef Ma sai che... Cioè, non hai neanche combattuto No, Fere, della settima generazione Non è uno shiny, ma... No, me ne frega nulla È bello lo stesso È di tipo ghiaccio Vero che è bellissimo Quindi, allora, anziché essere di tipo fuoco È di tipo ghiaccio Yes Bella questa cosa Mi piace, no? Mi piace Sì, 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 sì Guardalo, vieni, vieni, vieni qua Mi sono perso, Stef Mi sono persa nella neve Aiutami, fai vedere Guardalo È che bello È bellissimo E quindi avrà anche delle spell diverse, suppongo Assolutamente, sì Non è più di tipo fuoco Ma di tipo ghiaccio Assolutamente, sì Ti dico che cosa ha come abilità per adesso Sì, vai E vedi, power... Sì, 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 sì Ghiaccio, Fere Totalmente ghiaccio Quindi non è di fuoco E di conseguenza è anche più utile per me Buono così Eh, esatto Addio, il cronometro sono partiti i tuoi dieci minuti Fai quello che vuoi Ma i dieci minuti sono partiti, Fere Ok, ok Allora Anche io devo iniziare a cercare e a scegliere Anche perché qua vedo Pokémon completamente diversi Da quelli che fino ad ora abbiamo visto Siamo nella neve Uh, ciao, bellissimo Perché mi devi attaccare? Non volevo No, non mi far... Non mi picchiare Vulpix Però ho trovato Pip-Loop Della quarta generazione come starter Uh, bello Cioè, secondo me lo vuoi troppo È d'acqua Ed è più carino di tutti quelli che hai visto Corri verso di me Vieni, tanto sei vicinissima Ho trovato anche un seal Che è troppo bellino Uffa, sono tutti troppo carini Secondo me, Fere Ti conquista Guardalo in faccia Oh Oh no Ma è un pinguino, vero? Sì Cioè, è un pinguinetto Sì Io me lo prendo Vero? Io me lo prendo Tiro lì una Pokéball secca Perché secondo me è un livello 9 E te lo dovresti prendere Proviamo questo Perché è quella? Non lo so Perché me la vado a taeren E finalmente me la uso Va bene Vediamo se ti porta a fortuna Cioè, è livello basso Non dovrei avere... Hai preso? No, ti stavo per dire Non dovrei avere problemi Invece mi ha scappato Usa un Ultra Ball Che dovrebbe Ma che sfortuna Andare un pochettino meglio Vediamo Vediamo se si porta a casa Pip Ti guardalo in faccia nel mentre Aspetta, mi è partita Mi è partita via Devi smetterla In ogni caso Che bellino Il tempo sta passando Io ho perso del tempo A farti prendere il tuo Pokémon Però vabbè Era troppo da te Vabbè, allora Quindi Pokémon d'acqua Sono abbastanza soddisfatta Beh, hai preso uno starter Perché comunque era una delle mie richieste Meglio di così No, ma poi una delle mie richieste Ok Eh, dovrò farlo livellare tanto Perché ovviamente è solo di livello 9 Quindi ora E tutto il tempo del mondo Il Pokémon d'erba A me non so se lo posso trovare qua Perché qua è tutto ghiacciato Stef E infatti credo che dovremo avventurarci Non lo trovo Verso... Verso dove te la senti? Dritta? Sì, verso la montagna Scaliamo tutta questa montagna e corriamo Abbiamo ancora sei minuti Per catturare dei Pokémon Io non so se prenderne altri due O solo uno Perché quel Vulpix Sinceramente l'ho preso Preventemente pensando fosse Shiny Ok E beh, certo E invece non era Shiny E quindi non so Vabbè, Ferre Ma trovo tutti gli starter oggi È difficile È bellino Lo sai che nella scelta del mio starter Io ne ho deciso Tra lui e Tepig E poi ho scelto Tepig Mi è scivolata la mano Ero molto molto indecisa, Stef A me piace Però ho già il Pokémon fuoco lotta Quindi lui è di nuovo fuoco Non vorrei avere sempre lo stesso genere, Stef Ferre? È troppo carino però, eh Bellissimo Trappo carino Poi l'ho già trovato comunque di livello 21 Ferre Declina Ferre ti sta costantemente assaltando Mandalo via Ok, l'ho mandato via Ok È nervosetto, eh È nervosetto, Ferre Sì, ero un po' arrabbiato Fallo calmare Non vorrei dirti Ma manca un minuto e trenta Oh cavolo, davvero? Sì, però in questa zona ho visto diversi Pokémon Quindi continua a correre in giro Vediamo se troviamo qualcosa d'erba per te Io sono decisamente soddisfatto Perché considerate che non credo che terrò nella mia squadra apponita Di conseguenza un Pokémon di tipo fuoco a me serviva E aver trovato lui It's very good Monferno mi piace parecchio Per chi è già evoluto Livello 21 Veramente, veramente buono Ferre non ho trovato Taurus Ma ho trovato Buffalant E mi va bene lo stesso Perché togliendo Ponnita voglio qualcuno da cavalcare E spero che anche lui non sia abbagato Quindi cerco di catturarlo Anche se è fortissimo Perché è di livello 38 Quindi non so cosa riuscirò a fare per buttarlo giù Ok Però ci sto provando Se non lo indebolisco non riuscirò mai e poi mai a catturarlo Mi ha buttato già giù Ponnita Che era il mio più alto Vediamo con Croconov se riesco a fargli un altro po' di danno Credo che mi basti a dargli un morso Dimmi che non muoio Ok Come sta andando quindi? Eh, sono in difficoltà Però è bassissimo Dai, dai, dai Ce la dovrei fare Sta anche bruciando Quindi ce la dovrei fare Andiamo sulle bag Pokeballs Ultra Ball Se lo prendo farei un livello 38 nella squadra Eh, sì Vediamo Vediamo No, è uscito Aia Emo sono guai Uh, mi ha dato una sberlona Mi ha dato una sberlona Che male Mi dispiace Fatti prendere Allora sto combattendo anch'io Ok Ok Quindi per quello sono un attimino concentrata Mi ha attaccato un gloom Di livello 27 Contando che il tempo ormai è praticamente scaduto Sto pensando di Di catturarlo Il problema è che mi sta dando delle sberle Che non esistono su questa terra Steph, capito? Quindi Sono un attimino in difficoltà Io ho ottenuto tre bistecche di Bufalant Fere Ah Ok L'hai ucciso Stava continuando a bruciare Alla fine è morto Perché si liberava sempre Quindi ho le sue tre bistecche Se vuoi facciamo un barbecue No, grazie Steph No, grazie Sono tristissimo Fere Perché Lo volevo Andiamo Mi dispiace Mi merito di poter cercarne un altro Perché Sono triste Perché sei triste Esatto Mi devo consolare Comunque io ti informo che ho appena catturato Gloom Allora non so se sarà il mio Pokémon d'erba Definitivo Lui non mi dispiace Anche se avrei preferito catturarlo Da quando era un Oddish Perché mi piace evolverlo E non mi sta ascoltando Però per ora me lo tengo Ti ho ascoltato? Come se ti ho ascoltato? Eh no, per ora me lo tengo A me non piace molto quel Pokémon Però Ci può stare Non mi piace Perché come un terbo Veleno è secondo me abbastanza forte Per ora tengo lui Poi se troverò magari un Bulbasaur Come avevamo detto all'inizio Probabilmente lo cambierò Allora Io sono stato consolato immediatamente Perché ho trovato uno dei miei Pokémon preferiti In assoluto Ti hai trovato? Guarda Non lo vedo Ah, cadabra Ma non... Dov'è? Cadabra Scomparso Cadabra Non ti vuole vedere Eccolo, guardalo Guardalo che bello Bello Lui è figo, eh Abbiamo fatto un sacco di catture Allora, voglio fare un piccolo recap Cadabra Ok Ok Poi Halolan Vulpix Ok Ok Bellino Però io ti consiglio di tenerlo È davvero carino È Monferno Io sono soddissuatissimo Cioè mi sono preso Quello di fuoco strafigo Uno di ghiaccio Che non è per niente male E cadabra Che ho sempre adorato tantissimo Che dovrò assolutamente far evolvere Ti faccio vedere anche i miei? No Dai, sì Vai, facci vedere Gloom Questo è il più bello Ok, lo sappiamo E poi un attimino Vabbè, Gloom a te non piace Però io ti dirò A me non dispiace Quindi ecco il mio Gloom No, non combattete Basta, basta Ritiralo Vedi che ogni volta che c'è Monferno Cavolo È incredibile Fermo È una bestia Monferno Eh, mamma mia Lasciare una simacuccia, Steph È davvero complicato Stare vicino a lui È sempre arrabbiato Mi piace ancora di più per questo motivo Ragazzi Lasciateci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao, ciao